Buongiorno a tutti Spero un giorno di ricominciare a fare come prima perché comunque non mi costa molto tempo però fidatevi che non c'è ecco quindi non lo faccio perché non ho voglia perché ragazzi come sapete io vorrei portare tantissimi video perché comunque questo è un canale che faccio solo per divertimento ragazzi e per portarvi informazioni quindi insomma lo faccio per voi insomma e per me stesso ecco questo è stato questo canale è stato aperto apposta ecco quindi spero un giorno di rifarmi ragazzi e di portarvi video come facevo prima quindi non ci perdiamo a chiacchiere questo video ragazzi è un video molto semplice di alcuni spoiler che sono usciti della settima stagione prima di iniziare se volete vi invito a lasciare un mi piace che mi fanno sempre piacere ragazzi quindi se volete appunto aiutarmi lasciatelo iscrivetevi se non vedo ancora fatto per non perdervi i prossimi contenuti The Walking Dead e adesso partiamo subito con quello che è il video di oggi prima di tutto vi dico subito che in link in descrizione troverete quella che è la notizia in cui sto leggendo adesso che è uscita praticamente oggi questa notizia qua non so quando uscirà questo video penso oggi sì comunque sia uscita appunto il 13 maggio quindi questa notizia è proprio presa veramente uscita da poco ecco e sappiamo che il set di The Walking Dead 7 è blindatissimo cioè proprio ragazzi sono veramente ragazzi sono veramente cioè è blindato non si può entrare non si può fare foto e niente però alcuni ragazzi ci sono riusciti e oggi appunto vedremo un po' di informazioni che siamo riusciti a raccattare da queste foto allora prima di tutto dal massacro possiamo escludere Rick e Carl perché quelle sono le parole di Negan e l'abbiamo già detto e ok però per molti ragazzi il prescelto può essere Daryl per molti perché molti dicono che il prescelto è Daryl e il prescelto è Daryl ma vi mostrerò una foto molto 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 interessante dove noterete Norman Reedus e Glenn appunto che sarebbero Norman Reedus scusate Steve Ayan che sarebbero Glenn cioè sarebbero Daryl e Glenn che sono stati avvistati su un set di un incidente d'auto quindi di una scena dove appunto in The Walking Dead si vedrà un incidente d'auto lui cioè Norman Reedus e Steve Ayan stavano passando da lì a bordo della loro moto quando hanno deciso di fermarsi per accertare che tutti stessero bene e questo è lo scatto che di most case starete sicuramente già vedendo dove mostrano proprio Glenn e Daryl vivi quindi la domanda che ci stiamo facendo è ma questa scena quando l'hanno girata prima o dopo il massacro di Negan questa domanda è una bella domanda perché non lo so semplicemente ragazzi sono un po' come voi in questo momento non ho tante informazioni da darvi sto prendendo quelle che sto vedendo ragazzi da internet e portarne una spiegazione o portarvi un parere personale ecco quindi a mio parere questa scena è stata girata dopo il massacro di Negan quindi possiamo dire che la vittima diciamo le vittime diciamo come si dice quelle che se la stanno giocando ecco tra le vittime di Negan sono proprio secondo me Abram e Aaron dicono appunto questi spoiler ma secondo me solo Abram cioè rischia ragazzi solo Abram perché comunque Abram credo sia un personaggio abbastanza che sta diventando quasi principale quindi potrebbe tranquillamente essere lui però possiamo dire che questi spoiler confermano che Daryl sia vivo e anche Glenn quindi ragazzi state a voi decidere cosa dare questa foto insomma il vostro parere quindi pregherei di scriverlo giù nei commenti ragazzi così appunto ci confrontiamo e mi piacerebbe appunto sentire la vostra opinione come sempre perché sapete io rispondo sempre a tutti nei commenti mi piace confrontarci e mi piace appunto che ci confrontiamo eccetera eccetera quindi scrivete il vostro parere in questa foto appunto giù nei commenti quindi nulla ragazzi spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto se è stato così vi invito a lasciare un mi piace che tanto comunque sia non vi costa molto quindi se volete lasciatelo che mi fanno sempre piacere appunto questi mi piace e soprattutto iscrivetevi se non volete perdere cioè se non volete perdere appunto i prossimi contenuti di The Walking Dead quindi nulla ragazzi spero questo video vi sia piaciuto noi ci vediamo in un prossimo video un saluto da Foxhound di The Walking Dead News spoiler e altro bella ciao a tutti Grazie a tutti